Doveva essere una giornata di festa legata a San Paolo, si è trasformata in un dramma che tutti sperano possa evolvere positivamente. Stava giocando con i compagni il tredicenne che ieri sera a Montenero di Bisaccia, intorno alle 22.30, è rimasto folgorato dalla corrente a seguito del contatto con un palo elettrico. La corrente l'avrebbe attraversato all'altezza della spalla la fibrillazione ventricolare e ha fatto perdere coscienza. Da lì la richiesta di aiuto, l'immediato utilizzo del defibrillatore e un prolungato massaggio cardiaco sono stati decisivi anche se le sue condizioni sono gravissime. Soccorso dai sanitari del 118 di Montenero, il piccolo è stato trasportato al Santimotio di Termoli e successivamente nel reparto di rianimazione pediatrica dell'ospedale di Foggia è in prognosi riservata sul posto, oltre ai sanitari, i carabinieri, cui toccherà il compito di indagare sull'accaduto e i vigili del fuoco che avrebbero effettuato delle verifiche e preparato una relazione da inviare all'Enel.